ciao ciao buongiorno allora video decorazione agenda oggi è lunedì quindi vi faccio il video e cerco di caricarvelo subito allora andiamo subito allora tolgo perché questa è la parte vecchia alla decorazione nuova questa è la decorazione di questa settimana spero vi piaccia a me piace molto come è venuta praticamente ho messo del no questo non è washi questo mi sa che è deco di quelli della lidl che avevo poi avevo altri sticker della lidl e li ho attaccati questo è un altro sticker che avevo e l'ho l'avevo preso al gigante mi sa che c'erano degli sticker e degli emoji questo è uno di quelli che mi aveva dato Francesca che mi aveva messo dentro l'agenda e invece questa parte blu che voi vedete l'ho fatta con non con il clear stamp come si chiama con l'inchiostro eccolo qua questo praticamente l'ho aperto e l'ho un po tamponato cercando di fare il contorno e di fare un po' i divisori i divisori veramente li ho fatti allora il contorno l'ho fatto così tamponando tamponando direttamente su infatti si vede perché è più dritto un po' più invece le parti oddio scusate le parti invece che per dividere ho preso un pezzettino di scottex l'ho bagnato sopra e poi ce l'ho tamponato sopra infatti fa questo effetto un po' vediamo se riesco a farvelo vedere vedete che è un po' tipo a pallini no? perché c'è proprio la texture del fazzolettino dello scottex e niente ci sono le mie solite cose scritte questa è la settimana lavorativa per me più intensa perché io ho una settimana lavorativa intensa nel senso che vado da mia nonna da lunedì al giovedì e quindi lavoro di più e poi c'ho l'altra settimana tra virgolette di riposo perché lavoro un po' di meno e basta qui c'è il solito relax per modo di dire e basta spero che vi piaccia tra l'altro adesso qua mercoledì devo mettere anche iscrizione federico anzi lo facciamo insieme un attimino metto via un attimo l'agenda mettiamo il blu c'è federico che canta come sottofondo perché alessio è andato a scuola abbiamo appena accompagnato io e federico daniele dopo due settimane di varicella finalmente tornato all'asilo e adesso c'ho federico che dopo porterò dalla mia mamma perché io devo lavorare allora i scrizione e picco materna ecco qua scusate ma mi sto raffreddando quindi questa è la mia decorazione qui ovviamente ho messo caricare video perché adesso provvedo subito a caricarvelo e spero che vi piaccia a me è la prima volta che mi soddisco un po' di più rispetto a tutte le altre decorazioni la decorazione che che ho fatto allora il video niente finisce qui spero che la mia decorazione vi piaccia io vi mando un bacio grande vi auguro una buona settimana lavorativa se vi è piaciuto la mia decorazione fatemelo sapere con un polliciotto in su e se vi va ci vediamo ad un prossimo video ciao